Sono passati esattamente sei mesi dalla prima scossa di terremoto nel centro Italia, quella del 24 agosto. In sei mesi non si è fatto quasi nulla e a dirlo non è soltanto il Movimento 5 Stelle, a dirlo non sono i sindaci che lo denunciano, a dirlo non sono i terremotati che vengono qui a Montecitorio a protestare, a dirlo è anche il commissario alla ricostruzione Vasco Errani, nominato dal governo Renzi, che in questo audio non sa di essere registrato. Non riusciamo ad andare avanti su alcune cose, macerie, stalle, casette, ma non esiste il fatto che per cominciare a fare le casette che non è ciò che devo fare io, non esiste che per fare le stalle bisogna metterci tutto questo tempo, non esiste. Allora qui bisogna che ci diamo un'organizzazione, se era deciso a cercare la nuova marca e non l'abbiamo fatta, adesso ce la dobbiamo fare, se no non possiamo rispondere al problema. Io non so se vi rendete conto, questi signori dopo sei mesi stanno parlando ancora di darsi un'organizzazione, Vasco Errani dice dovremmo darci un'organizzazione, proprio lui che è stato nominato perché doveva portare con sé l'esperienza dell'Emilia Romagna, di quando era stato commissario al terremoto del 2012, in realtà lui è stato nominato per le solite spartizioni interne al PD e lui era in quota minoranza DEM. Ebbene io sono d'accordo, non è possibile che dopo sei mesi e tre decreti terremoto sia ancora tutto fermo, non è possibile che si dovevano consegnare 3.000 casette e ne sono state consegnate soltanto 18 in sei mesi, non è possibile che bisognava velocizzare lo smaltimento delle macerie e le macerie stanno ancora lì. Guardate le foto dei centri storici, quelle del 24 agosto e quelle del 24 febbraio, gran parte dei centri storici ha ancora le macerie lì dove erano, lì dove erano il primo giorno del terremoto. Sulla costa, negli alberghi, ci sono ospitate 5.300 persone delle aree colpite dal sisma, che non sanno se potranno restare negli alberghi fino ad aprile o anche quest'estate, anzi rischiano di essere sfollati anche dagli alberghi perché le convenzioni non sono state ancora rinnovate e gli albergatori affrontano tra poco la stagione estiva e potrebbero aver bisogno delle stanze. Secondo Coldiretti si dovevano consegnare 637 stalle agli allevatori, a gennaio solo il 12% è stato consegnato, ma la neve era già arrivata e infatti in sei mesi sono morti qualcosa come 10.000 animali. E non è possibile ancora che non ci sia una no tax area per quelle persone. Sono mesi che chiediamo una no tax area per le zone terremotate. Non si può sospendere il pagamento delle tasse per due anni, tre anni, perché quei cittadini quando gli dici sospeso, loro si porranno il problema di dover pagare tutte le tasse alla fine della sospensione e quindi le staranno pagando. Anche adesso io ne ho conosciuti quando sono stato lì. Allora anche il sindaco di Accumoli oggi ci dice se si continua così neanche nei prossimi 20 anni avremo un barlume di ricostruzione. E ha ragione. E allora noi ad Errani chiediamo una cosa, di prendersi le sue responsabilità. Se lui è incapace se ne vada a casa. Se invece è responsabilità di qualcun altro la non gestione di questa emergenza, allora ci faccia nomi e cognomi di chi non sta facendo il proprio dovere. Perché oltre ad essere incompetenti, sono anche in malafede. Noi abbiamo chiesto al governo Gentiloni, con una lettera protocollata, di inserire all'interno dell'ultimo decreto terremoto, con questa lettera che vi faccio vedere, tutte le richieste che venivano dai sindaci, dai terremotati, dai cittadini che erano venuti qui a portarci delle proposte, per aiutare imprese e per aiutare famiglie di quell'area. Ma la gran parte di queste proposte, che non aveva avanzato il Movimento 5 Stelle, ma avevano avanzato i cittadini di quelle aree, sono state ignorate nel nuovo decreto terremoto. E quindi abbiamo perso anche l'ultima chance di poter risolvere quel problema. E allora, dal mio punto di vista, il Movimento 5 Stelle è sempre stato collaborativo nei confronti del governo. Abbiamo sempre detto che siamo disposti a collaborare per aiutare i nostri concittadini, ma non per prenderli in giro. E quindi in questo momento, chi non sta facendo la sua parte, si faccia da parte il prima possibile.